Ciao ragazzi, innanzitutto volevo avvisarvi che sono in live sul secondo canale con il Adriano per fare un po' di cazzeggio e attività insieme a voi spero che venite anche se è sabato e poi volevo dirvi che non ho fatto video oggi, vi spiego il motivo perché in pratica ho perso il file della facecam di stamattina e ho solo i gameplay, quindi mi dispiace, non avevo neanche tempo poi di fare l'altro video domani sarà il mio ultimo giorno di vacanza, vi porterò un video veloce dalla piscina così e poi da lunedì chiaramente si riparte a bomba e niente ragazzi, vi aspetto in tanti sul secondo canale e niente, buona serata e buona visione per live, bella